Guna SBA è azienda leader nel mondo della medicina integrata, della medicina complementare ed è l'azienda che da diversi anni, da tanti anni sostiene le attività che vengono svolte dal Giardino della Minerva. Il Giardino della Minerva di Salerno è una perla della cultura, la scuola medical salernitana conosciutissima in tutto il mondo. Guna, essendo azienda leader della medicina integrata, si è assunta, diciamo, ma con grande onore e piacere, la responsabilità di sostenere le attività attraverso diverse modalità. Una di queste modalità, al di là dei restauri che sono stati fatti all'interno del Giardino della Minerva, che è un luogo peraltro visitatissimo da migliaia e migliaia di visitatori ogni anno, una delle attività che porta avanti è Natura che cura con le scuole, questo per diffondere sempre maggiormente la cultura del benessere, dell'utilizzo sano della buona medicina, della medicina naturale, quindi la medicina che sin dall'epoca medievale si faceva con l'utilizzo delle piante officinali di cui ancora oggi è testimonianza appunto il Giardino della Minerva. Quindi questa è una collaborazione che noi portiamo avanti da anni, che abbiamo intenzione di proseguire negli anni e in questo momento insomma si sembrava giusto celebrare e dare conto di questa realtà e di tutte queste iniziative. Buongiorno, sono Antonio Fresa, medico chirurgo di Salerno e medico specialista in medicine complementari, oltre che in odontoiatria. Per medicine complementari intendiamo quelle affermate dalla FNOMCEO, quindi agopuntura, medicina tradizionale cinese, omeopatia e omotossicologia ayurvedica. Comunque questa iniziativa nasce perché? Perché cerchiamo di affermare attraverso la visita che oramai viene fatta attraverso il progetto Natura che cura e mangia bene e cresci bene di AMIOT in Milano, su tutte le scuole elementari e medie ma molto spesso anche delle scuole superiori, su questi percorsi di salute e io come medico salernitano ho il pregio e il vanto di poter inserire in questo discorso la scuola medica salernitana perché Salerno, questa è una cosa che purtroppo dimenticano in molti, è la prima scuola medica in Europa e il nostro giardino dei semplici è il primo orto botanico che nacque ai tempi di Matteo Silvatico. Ecco per questa l'iniziativa di quest'anno, previo poi il consenso di tutto l'assessorato alla cultura di Salerno, mirerà a portare nelle scuole il solito discorso è la natura che cura e mangia bene e cresci bene, ma soprattutto cercheremo di far arrivare i bambini, i ragazzi a scuola da Matteo Silvatico, cioè queste lezioni cercheremo di farle al giardino della Minerva inserendo non solo il percorso di salute ma anche un percorso di cultura per la nostra Salerno che molto spesso è dimenticato sotto questo aspetto. Continuiamo a dare priorità e grande importanza al nostro progetto sulla storia del territorio, sulla storia di Salerno, in questo caso chiudiamo il secondo anno di istituzione della materia di storia salernitana nelle scuole con un appuntamento alla Don Milani, con i più piccoli, doteremo la biblioteca di forniture gratuite di compendi sulla storia di Salerno e collaboriamo con Laguna, una realtà che ha aiutato a valorizzare il giardino della Minerva, quindi con loro in sinergia, con loro l'anno prossimo faremo una serie di incontri sulla scuola medica salernitana, sulla prima università nella storia di medicina che ha avuto vita a Salerno, un patrimonio inestimabile che va rilanciato, valorizzato e fatto conoscere perché può essere ancora una volta un'occasione di rilancio per il territorio, di economia e di ricchezza che ad oggi non è stata colta in questi anni, ma noi potremo invece portare a compimento con iniziative di consapevolezza delle nuove generazioni e iniziative di promozione rivolte alla collettività. Il giardino della Minerva ha avuto, grazie a questi interventi che sono stati fatti, questo finanziamento che è stato fatto negli anni dalla Guna, ha avuto dei grandi vantaggi ovviamente. I vantaggi si sono però materializzati non in una disponibilità economica generica che serve a fare manutenzione eccetera eccetera, no, questo no assolutamente. L'impegno che noi abbiamo preso con i responsabili della Guna è quello di mirare su degli obiettivi specifici, su delle necessità specifiche del giardino per dare, diciamo, a questo contributo che è stato dato negli anni dalla Guna, per dare un valore significativo, cioè per toccare con mano effettivamente quanto è importante, diciamo, il contributo della Guna, diciamo, nella vita del giardino. Nella fattispecie io ora ho in mano queste ultime due produzioni che sono i dépliants e i pieghevoli che sono stati fatti recentissimamente e uno è, diciamo, dedicato ai visitatori, quindi coloro i quali entrano nel giardino hanno questo primo dépliants che è una cartina del giardino dove ci sono tutte le indicazioni per poter capire bene il funzionamento del giardino. E un altro dépliants viene dato all'esterno del giardino, cioè all'esterno del giardino significa nei bed and breakfast, all'azienda Soggiorno e Turismo, eccetera, in maniera tale che coloro i quali visitano Salerno hanno informazioni significative su che cosa è il giardino della Minerva e quindi possono entrare. Ovviamente nei dépliants è presente correttamente il logo della Guna che appunto finanzia anche questa attività, cioè quella della produzione stampa di questi opuscolini. Poi nei passati anni noi abbiamo fatto tantissime altre cose, diciamo, sempre ovviamente documentate, per esempio una tra tutte abbiamo realizzato questa biblioteca, cioè abbiamo costruito i mobili che servono per costruire praticamente i libri che ci sono stati donati da Paola Lanzara che è una grande botanica, è stata direttrice dell'Orto Botanico di Roma. Oggi noi abbiamo la documentazione di Paola Lanzara al giardino e questi libri sono custoditi in mobili fatti molto bene che sono appunto stati donati da Laguna, come pure tutti i nostri mobili che raccolgono i semi del giardino. Tante realizzazioni, però il punto significativo è che noi queste realizzazioni le abbiamo fatte creando, cioè materializzando su oggetti quello che è stato il finanziamento negli anni di questa società. Io ho abitato di fronte fino a qualche anno fa, ora abito a due passi da qui, quindi amo questo quartiere, amo questa città. Come consigliere comunale tre anni fa, quando sono stato eletto, la prima domanda che mi sono fatta è cosa posso fare per lasciare un segno ai miei coetanei ma anche a quelli più piccoli di me, alle nuove generazioni, oltre che alla città. E pensandoci la prima idea sulla quale ho voluto lavorare ho detto noi dobbiamo riscoprire l'immenso patrimonio che ha la città di Salerno. Questa è una città che ha storie uniche da raccontare al mondo, lo dovete sapere piccoli. La vostra città oltre ad essere bellissima ha anche tanta storia. Siamo stati i primi a dare input sulla medicina, su cure che mille anni fa a Salerno si sperimentavano e oggi ancora vengono utilizzate per salvare vite umane.